Sì, oggi abbiamo fatto un'ottima partita proprio sul livello tecnico, siamo stati puliti, c'è mancato il gol, è capitata qualche occasione, peccato perché quando fai queste partite per prendere consapevolezza devono essere premiate con il risultato con tre punti. Per me sì, a prescindere da, l'ho detto anche prima di questa partita, per me il Frosinone come l'anno scorso alla fine arriva, arriva da quelle parti, poi bisogna essere bravi a avere meno pause possibili, come è successo l'anno scorso, però la squadra è forte, i ragazzi sono bravi e perciò sono contento. C'è mancato il gol, però con l'Ascoli magari abbiamo fatto peggio, abbiamo portato a casa tre punti, oggi abbiamo fatto bene, ma capita. Per me dobbiamo migliorare sicuramente gli ultimi 30 metri, essere un pochino più lucidi nell'ultimo passaggio, nel tiro, io sono convinto che dobbiamo crescere anche individualmente per tanti giocatori, c'è Marcus Roden che ha avuto l'infortunio, oggi è tornato, Parzicek deve ambientarsi a un metodo di lavoro diverso, anche fisico, poi abbiamo Camilo, abbiamo Federico, giocatori forti, dobbiamo crescere perché il pacchetto offensivo per me è di gran livello. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti